L'Orella Boccia Il film, che si chiamerà Step Up All In, riunisce le grandi stelle dei film precedenti. L'Orella, ai microfoni di Digicom24, ha raccontato di aver avuto inizialmente un po' di FIFA sul set, ma poi di esserti integrata bene con gli altri ballerini e i coreografi, vivendo questa esperienza come una straordinaria opportunità di crescita. Che dire, in questo caso da amici ad Hollywood il passo è stato breve. L'Orella Boccia